Cerimonia di avvicinamento questa mattina a Roma del nuovo capo della polizia Vittorio Pisani. Prende il posto del prefetto Lamberto Giannini, presente anche il ministro dell'interno Piantedosi. Abbiamo il dovere di tutelare le istituzioni democratiche e di assicurare a tutti l'esercizio delle libertà fondamentali, ha detto Pisani, parlando anche del coraggio necessario per fare scelte e cambiamenti.